A Didacta, il più grande evento sulla scuola e l'istruzione, ospitato per la terza volta dalla Toscana alla Fortezza d'Abbasso di Firenze e inaugurato alla presenza del Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, è stato firmato il protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale, Union Camere, Feder Meccaniche e Confindustria, per aumentare di 200 ore rispetto al minimo stabilito dalla legge nazionale i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e favorire così l'alternanza scuola-lavoro. La firma è stata apposta nello stand della Regione Toscana, che mette a disposizione 631.000 euro per i progetti dei tecnici e dei professionali. Impegniamo a finanziare quelle scuole che hanno bisogno di riportare a 400 il numero di ore di alternanza, quindi parlo di istituti tecnici e professionali, e quindi in pratica i minori finanziamenti che hanno ricevuto dallo Stato la Regione Toscana si impegna a rifonderli. Una firma in linea con lo spirito di Didacta, che con 82 workshop, 67 seminari, 10 convegni e 2 padiglioni della Regione, ha l'obiettivo di investire sulla scuola del futuro e sulle opportunità da offrire agli studenti. Nel 2018 Didacta ha totalizzato oltre 23.000 partecipanti, il 23% in più rispetto al 2017. Grazie a tutti.